L'adeguamento sismico di un edificio storico in muratura oggi non è più un problema, ma un'opportunità. Con il modulo murature di Travelog Titanium valuti rapidamente la vulnerabilità sismica della costruzione e progetti gli interventi di adeguamento più opportuni. Puoi applicare ad ogni elemento murario rinforzi con fibre di carbonio, intonaco armato o cerchiature e valutarne l'effetto sul comportamento globale dell'edificio. E c'è di più con murature, progetti e verifichi edifici nuovi in muratura semplice o armata e, se abbinato al modulo cemento armato, valuti la sicurezza sismica di una struttura mista muratura e cemento armato. Un software davvero completo. Puoi modellare in modo semplice edifici di forma anche molto articolata. Procedi rapidamente per piani orizzontali e visualizzi istantaneamente la rappresentazione solida tridimensionale della costruzione. Se preferisci lavorare con un software CAD, puoi importare un file DXF o DWG. Murature riconosce automaticamente muri, aperture, pilastri, travi e solai e con pochi passaggi crei l'intero modello di calcolo. Genera poi con un semplice clic il modello a telaio equivalente per il calcolo ad elementi finiti. Con il modulo murature puoi eseguire analisi sismiche lineari, visualizzare le sollecitazioni di ciascun elemento e studiare il comportamento dinamico della struttura. Murature esegue tutte le verifiche agli stati limite per compressione, taglio e flessione nel piano e fuori piano. Per gli edifici esistenti puoi condurre un'analisi non lineare di tipo pushover. Murature traccia la curva di capacità e segna la domanda in spostamento per ciascuno stato limite, garantendoti una lettura immediata dell'esito della verifica. Completi la verifica sismica del tuo edificio esistente con l'analisi locale dei più probabili meccanismi di collasso su singole pareti o porzioni di struttura. Murature esegue con pochi semplici passaggi l'analisi cinematica dei meccanismi di ribaltamento semplice e composto, di flessione verticale, orizzontale e di sfondamento della parete del timpano. Ogni verifica è corredata da un chiaro schema esplicativo del cinematismo scelto e delle forze in gioco. Con murature dai il giusto valore al tuo lavoro e presenti al committente una relazione tecnica chiara e dettagliata. Ti basta poco per avere il report completo delle analisi condotte sull'edificio ed il pratico editor di testi ti consente di apportare modifiche o aggiungere ulteriori descrizioni. Ora prova tu scaricando la versione in prova gratuita. Puoi anche consultare il nostro servizio di assistenza telefonica gratuito e la pagina di supporto di www.logical.it dove hai a disposizione numerosi tutorial ed esempi con diverse soluzioni progettuali.